Cari ragazzi, è stata dura, vi posso assicurare che è stata durissima Durissima perché ho passato ben più di qualche ora a pensare Nexus 6P o Huawei Mate 8 Quale dobbia? Il Mate 8 o il Nexus 6P? Perché non potevo tenerli chiaramente tutti e due Sono due device che si assomigliano in alcune cose Poi ho dovuto scegliere e quale ho scelto? Facciamo intanto partire la nostra sigla Non sono impazzito, ho dovuto davvero scegliere perché intanto salutiamo Stefano Poggi Che ha comprato il... non vi dico quale Ha comprato il dispositivo che non ho più qui con me Stefano è un amico quindi lo salutiamo come al solito Lui ha iPhone 6S Plus, ha voluto provare questo dispositivo per riaffacciarsi nuovamente al mondo Android Allora, la mia scelta è stata dovuta ad alcuni fattori Siamo chiaramente nell'angolo del guerze perché ormai la location... Ormai la... cazzo avete visto il device? Vabbè Insomma ragazzi la location ormai l'avete capita qual è Quindi tranquillità, quindi facciamo tre chiacchiere Allora ragazzi ho scelto un dispositivo che ormai l'avete visto e ve lo farò vedere Lui Il Mate 8 ragazzi perché? Perché ho scelto il Mate 8 rispetto al Nexus IP È stata davvero dura la scelta Allora, vi dico questo Nexus IP l'ho utilizzato uguale, identico a come uso Mate 8 Ovvero, prettamente un uso multimediale Mi guardavo le partite Ascoltavo la musica, nonché anche contenuti multimediali YouTube, guardavo i video, ci giocavo almeno una mezz'oretta al giorno E lì ho scoperto tutti i difetti di Nexus IP Che nell'ambito comunque quotidiano giornaliero Se non lo utilizzavo come utilizzo tuttora il Mate 8 Non potevo notare le differenze Prima cosa, ambito gaming Io gioco allo stesso gioco, sempre, ogni giorno Vi dico anche quando Quando ho quel quarto d'ora ad andare in ufficio E per ufficio avete già capito quale In quel quarto d'ora, venti minuti di relax quotidiano Prendo il mio bel telefonone E gioco ad un gioco Gioco ad un gioco Si chiama Final Kick È un gioco molto banale di calci di levore e punizioni Quindi stiamo parlando di ambito proprio sportivo Ambito giochi E a calcio, insomma Lui tranquillamente freddissimo Nexus IP Incominciava a diventare tiepido Lungo tutto questo bordo E lì, onestamente, lo Snapdragon 810 E la varia dissipazione del calore Non faceva la stessa cosa Che mi fa il Kirin 950 Sul Mate 8 Prima particolarità Seconda particolarità Uso uguale, vi ripeto Nexus IP La sera avevo il 42, 45, 38% di autonomia del dispositivo Su Mate 8 Arrivo a casa la sera Ho addirittura, dalla mattina Col 100% il 70% di utilizzo Quindi ho un buon 40% in più di autonomia E questo è il secondo punto Terzo punto Quando mi mettevo a guardare le mie I miei contenuti multimediali Che potrebbe essere, che ne so Netflix Mi viene in mente Una serie TV al volo Modalità Lenscape Il display di Mate 8 Con i 6 pollici Con la sua costruzione Con i bordi davvero stretti Rendeva al massimo Proprio godevo Mentre guardavo i contenuti multimediali Su questo device Non ho goduto Mentre li stavo guardando Sul Nexus IP Sono, ragazzi Vi ripeto Cose personali Che nell'ambito quotidiano Magari a me danno queste sensazioni Magari a voi ve ne danno Assolutamente Tutta altra cosa Vi viene dato da questi device E quindi Bene o male Sono considerazioni Che io vi do Però Potrebbero essere anche contestabili In un ambito diverso Dell'utilizzo vostro Cosa mi faceva godere Proprio in Nexus IP Era, vabbè A parte la Costruzione Che era secondo me Paritaria Al Mate 8 Una costruzione meravigliosa Aveva due casse Davanti Che pompavano Davvero di brutto E quello Era una cosa Che anche qua Adesso mi manca Però è una cosa Che rispetto a quelle Piccole tre cose Che vi ho elencato prima Ne ho potuto fare a meno Perché è vero che l'audio Di Apex Launcher O di Apex Launcher Insomma di tutti I Launcher Che potete Scaricare dal Play Store Questi device Che non sono Che non nascono Come un Android Stock Riescono ragazzi A assomigliarci In una maniera Incredibile Questo a merito Degli sviluppatori Di Nova Launcher O di Apex Insomma Chi sviluppa software Per lato mondo Android Questi dispositivi Anche se non nascono Chiaramente Con questo Android Stock Ci assomigliano Sempre di più È vero che Per carità Quando si aprono Le impostazioni Qui ho le impostazioni Di Huawei Non ho le impostazioni Di un Nexus È vero che Se tiro giù la tendina Non ho la tendina Di Del Google Stock Ma ho la tendina Di Mate 8 Ma è anche vero ragazzi Che io preferisco Comunque Rinunciare a qualcosa Di rinunciabile Rispetto a Rinunciare A un qualcosa Che mi fa godere Mentre sto utilizzando Un dispositivo Ecco perché La mia scelta è stata Vendo Nexus AP Mi tengo Huawei Mate 8 Perché se devo avere Un secondo device E deve essere grande Allora scelgo quello Che è più grande Perché Mi fa godere Di più Di contenuti Multimediale Delle Dopo di Quando utilizzo Il device Come device Da Riproduttore Di un film Insomma Se devo godere Voglio godere a pieno E non voglio Rinunciare a niente Qui ragazzi È stata La mia scelta Personale Perché poi A livello Proprio di Non lo so Fotocamera Videocamera Forse era sicuramente Meglio anche Nexus AP A livello audio Era meglio Nexus AP Però ragazzi Però ragazzi Qui si va anche Ripeto A opinioni Personali Quindi La mia scelta È stata questa Magari Sentiamoci nel box Dei commenti Così almeno Cerchiamo di valutarla Insieme Mi dite anche la vostra La vostra opinione E mi dice E mi dite anche se Magari ho fatto bene A tenere Mi toto Oppure magari Devo richiamare Il mio amico E farmi rendere Nexus AP E gli mando a lui Il Mi toto Insomma ragazzi Siamo come sempre Aperti a qualsiasi Tipologia di commento Mi raccomando Anche seguiteci Sulla pagina Di Facebook Le recensioni Guerzo86 Perché ve l'apro Adesso in diretta Ma siamo diventati Davvero una cosa Incredibile Come 1482 utenti Mi pare Siete davvero Tantissimi E questo mi fa Sempre più che piacere Oppure abbiamo anche L'account Twitter Chiocciolina Guerzo86 Insomma ci sentiamo Ragazzi Nei prossimi video Io vi saluto E vi rimando Come il solito Nelle prossime video Recensioni